è stata un'esperienza molto forte a Matteo non la consiglio posso dire che c'è cioè devi andare in questo cunicolo strisciando cioè non puoi fare nient'altro se non strisciare e arrivi dentro e la cabina telefonica di cui parla Daniele è una cabina telefonica non per niente rettangolare è molto irregolare con degli spuntoni che ti possono far male e poi subito dura un metro dura un metro quella cabina telefonica Daniele è lunga un metro guarda io non ci ho neanche provato ho avuto paura ma perché dovevi andare ancora un pezzettino ho così detto ma infatti non me la sentiva di fare di passare l'utero Oh, eh.